Comunque, complimenti. Grazie. E contogarmi, come va? Ti trovi bene nel suo gruppo? Un'esperienza fondamentale. La mia vita non è più la stessa. Ho appreso che a guidare la carrozza non deve essere il cavallo, ma il cocchiere. E quindi è diventato scrittore. Bravo. Ogni tanto tornerà per le vacanze, magari per vedere i suoi. Ci criticherà ferocemente perché lui vive nella civiltà. Ma una cosa non sa. Che questa terra, come la Ionia di Eraclito, è una sagora e magica. E richiama sempre coloro che gli appartengono. Come se esercitasse un diritto. La legge dell'appartenenza. E anche per lui, un giorno inevitabile, il ritorno. Sarà il clima, la luce, l'aria. Comunque. Una granita di un cantor. Io ti adoro, io ti adoro. E anche per me. Grazie.